Musica Ok, siamo pronti per la sfida dei tre più team Il primo giocatore che andrà a tirare sarà Alex Varga Ucidele Golfo, benvenuti, benvenuti alla terza struttura di Itri All Star Game questa sera si inizia con la gara dei tre punti, tiri da fuori Il primo a tirare sarà Alex Varga L'immagine sono curate di Nicola Dell'Anno che adesso andrà a prendere Varga e a chiudere sul canestro Si tira da fuori, solo da fuori, gara dei tre punti Primo a tiro che non va, seconda, palla dentro Uno su due per Varga al momento Secondo Rush che non va Uno su tre, due su quattro Ancora Varga, vediamo se fa cinque Tre su quattro Anzi tre su cinque Quattro su sei Quattro su sette e adesso fa cinque su otto per lui, una buona media Cinque su nove, vediamo se tiene Cinque su dieci, la media del cinquanta per cento per il giocatore del basket scouting In serie B Questo è il primo punteggio, Varga, cinque su dieci Scusate Adesso il giocatore della Estonia Parte adesso Di come tiro che entra, uno su uno Due su due Tre su tre Quattro su cinque Quattro su sei Abbassato la sua media proprio con quei tiri centrali Quattro su sette Quattro su otto Cinque su nove Cinque su nove E sei Sei su dieci Per il giocatore Estone Che al momento è primo Una media del sessanta per cento Ok, prossimo giocatore Si ricomincia adesso Kozlowski Kozlowski Giocatore della Polonia Inizia adesso la La pull di Kozlowski Primo tiro Uno su Zero su uno Uno su due Due su tre Due su tre Tre su quattro Un momento per Kozlowski Tre su cinque Quattro su sei Cinque su sette Cinque su sette Su otto, scusate Sei su nove Vediamo se alza la media Sei su dieci Anche per lui Primo post exequo al momento Con il giocatore Estone Ovviamente vale anche il tempo Quindi chi ci mette meno Alla fine Vince Quel trofeo Che è lì a centro campo Giorgio Piorkulis Della Partenope Giorgio Piorkulis Della Partenope Primo pallone per lui Zero su uno Zero su due Uno su tre Uno su quattro Uno su cinque Due su sei Voleva fare Due su sette Due su otto Media bassa per lui Due su nove Tre su dieci Quarta posizione per lui Al momento Andiamo avanti Per il basket Giuseppe Di Piazio Giuseppe Di Piazio Baschia Titri Vediamo la sua media Zero su uno Uno su due Uno su tre Uno su tre Uno su quattro Due su cinque Tre su sei Falzando la media Quattro su sette Cinque su otto Cinque su otto Cinque su nove Cinque su dieci Cinquanta per cento La sua media Ripasso il giovedere della Lituania Ripkus Ripkus della Lituania Sembra che al momento il primo sia Koslowski Zero su uno Uno su due Uno su tre Uno su tre Due su quattro Al momento il cinquanta per cento la media Tre su cinque Non va Niente da fare Tre su sette Quattro su otto Media al cinquanta per cento Al momento Vediamo se l'alza Due a fare Quattro su nove Quattro su dieci Quattro su dieci Quattro su dieci Quattro su dieci Quattro Quattro Primo giro completato Adesso Politori per il Fabio Basket per completare il giro delle squadre Zero su uno Zero su uno Uno su due Uno su tre Uno su tre Uno su tre Passato la media Politori in questo caso Uno su sette Due su otto Due su otto Due su nove Ultimo tiro Nel manco Due su dieci Falman le mette sette su venti Pronto a tentare adesso con il Fabio Basketball Caevaz Caevaz Dell'Estonia Primo tiro per lui Uno su uno Uno su due Sonia aveva fatto Quattro su quattro Nei quegli tiri Due su quattro Due su tre Due su quattro Due su cinque Vediamo se riesce a fare Niente da fare Due su sei Due su sette Tre su otto Due su quattro Tre su nove Tre su dieci Nove su venti Quattro su quattro Quattro su quattro Quattro su quattro Prossimo tirare per la Polonia Adesso Malik Adesso Malik Per la Polonia Quattro Numero dieci Niente da fare Niente da fare Sul primo tiro Niente da fare Per il secondo Niente da fare Il terzo Zero su quattro Zero su cinque Zero su sei Rischia di fare filotto Zero su otto Zero su nove E zero su dieci Sei su venti Si abbassa La media Della Polonia Pallone che Adesso Sarà tirato Pallone a lato Uno su dieci Per il giocatore Della squadra Partenope Partenope Che le fa Quattro su venti Lucas Non va il primo Momento zero Su quattro Ancala di Tuani È sempre distinta Per i tiri Della lunga distanza Dentro Due Tre su dieci Per il giocatore Lituano Otto su venti Al momento I migliori Sono quelli Dell'Estonia 9 su venti Per i tiri Per loro Cassio Zero su due Ancora ferro Ancora ferro Non va Zero ancora Adesso Alza La media Il due Due su sette Vediamo se alza la media Due su otto Due su nove E due su dieci Sei su venti Pallone al lato E a fare i conti 5 su dieci Al cinque Senti Da terra Ogni piace Cinque Su dieci Al cinquanta Sei la fatto Anisse Cinquanta Cinquanta La fine Con Zlowski Quarantotto 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 Se dieci Quarantotto Da terra Quindi Anisse Quarantotto 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 E parca Quarantotto Il tempo A un e meno Il due Anisse 5 su dieci 5 su dieci Di Piazza 6 su dieci Di Piazza 6 su dieci Di Piazza 3 su dieci Di Piazza E l'incluse Quarantotto Ha vinto l'Estonia 9 su 20 Ok Quindi I cinque Anissi Sono ufficiali? Allora I cinque finalisti Il primo dell'Estonia Kozlowski Varga Riktus E Dibbiase Questi sono i finalisti Il primo a finale Saranno I finalisti sono Varga Dibbiase Kozlowski E Dibbiase 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 Pallone Pallone Che andrà A lato Adesso Per La seconda Munch Del Tri punti Dibbiase 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 L'ultimo attraverso L'ultimo attraverso Era il giocatore dell'Estonia Si sta per completare la manche dei tiri da tre Pallone Pallone Lo lascia Lo lascia lì 1 su 6 2 su 7 Su 8 2 su 9 2 su 10 Media del 20% Nel tiro Per Rinkus Peggiorato leggermente Aveva fatto 4 su 10 In precedenza Quindi Leggermente calato Dibbiase Dibbiase 0 su 5 Quindi Mozione Prende 1 su 5 1 su 6 Addirittura 2 su 7 3 su 8 4 su 9 E vediamo 4 su 10 Aveva fatto 5 su 10 Aveva fatto 5 su 10 Quindi Anche lui Leggermente calato Varga Insieme a Damancino Insieme a Varga 0 su 1 1 su 2 2 su 3 Sta alzando la media 3 su 4 Guarda Aveva fatto 5 su 10 S3 su 5 3 su 6 3 su 7 3 su 8 4 su 9 4 su 9 E 5 su 10 Si riconferma Praticamente Come in precedenza 5 su 10 5 su 10 Per Varga Il prossimo Il prossimo Senatore Che vuole reguagliare Il risultato di Varga Che si è concentrato Su 5 Di perine Kozlowski Ma Kozlowski Procedenza Aveva fatto 6 su 10 Kozlowski 1 su 2 1 su 2 1 su 2 2 su 2 2 su 3 3 su 6 3 su 6 4 su 7 4 su 8 Non riuscirà Non riuscirà ad arrivare a 6 Vediamo 5 su 9 6 su 10 L'ultimo La mette dentro 6 su 10 Per Kozlowski L'ultima finale Sada Aliste Aliste Della Estonia Devi fare 6 su 10 1 2 Su quel lato Quindi aveva fatto benissimo 3 3 su 3 4 5 6 su 10 7 E' campione 8 8 9 su 10 9 su 10 Quasi vicino Alan Plain Gravissimo Ha fatto una cosa spettacolare E' lui il vincitore del contest Non grandissime dotate atletiche Ma una grandissima mira Da Cecchino Può ritirare il premio allora Proprio stravato Che consegnerà Al giocatore del Rappla Basket Il premio Del 3 contro 3 Del 3 point Il premio del Afro Il premio del Pascoe Il premio del P glove E' da effetti L' apresento Il vincitore della gara 半issime pin complimenti a lui 9 su 10 per il giocatore Estone che ha chiuso al quinto posto questo memoria stravato quindi la soddisfazione di portare a casa questo personale titolo complimenti 9 su 10 da 3 farebbe sempre piacere tenerselo in squadra un giocatore con questa mano così calda tanto si scaldano i giocatori delle due squadre perché fra poco sarà il tempo dello Stargame